Mi dice qual è il suo talento principale? Il mio talento principale è la spontaneità. Vabbè, quindi ci aspettiamo grandi cose sulla spontaneità. Lei in un'intervista a Davide Maggio ha detto Non mi piace l'apparire per l'apparire, preferisco essere. In America il personaggio rimane tale anche se non si fa vedere. Un Robert De Niro è sempre un Robert De Niro e una Prati è sempre una Prati. Insomma lei come De Niro. Nel senso che qui in Italia se tu non sei tutti i giorni in video Tentano a dimenticarti. Mentre in America un artista lo è fino alla fine Anche se non deve tutti i giorni dimostrare l'artista che è. Senta ma lei è più ammiratori o più detrattori? Più ammiratori. Cosa ammirano in lei? Cosa ammirano in me? Cosa piace in lei? Beh, intanto il fatto che sembra un'eterna ventenne E vedono una persona diversa dal solito. Diversa da tutte e uguali a nessuna. È diversa da tutti perché? Beh, sono diversa. Ma come tutti o qualcosa in più? Cioè diversa? Diversa. Comunque lei ad un certo punto se ne va dalla Sardegna Arriva a Roma e fa la commessa in un negozio. Esatto. Dove ad un certo punto entra un agente che poi era Alberto Tarallo Mi vide e mi disse Ma tu sei sprecata. E le propone addirittura la copertina di Playboy? Sì. Ma uno entra così e propone una copertina di Playboy? No, 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 no. Io feci un provino per essere presa. E che si fa al provino per Playboy? Si fa che ti vedono, vedono come mamma ti ha fatto. Siccome appunto non sono nata ricca e servivano i soldi a casa E quindi lui mi convinse a fare questo provino E da quel provino eccomi qui. È partito tutto, infatti. È partito tutto. Lei racconta Io non ridì, mostrarmi nudo a tutta l'Italia, mai Però diciamo pure che il suo orrore durò pure poco Perché disse invece di sì, come ha detto, e fu un successo Tanto che poi fece anche Playman Quindi diciamo un po' ci ha preso gusto. No, non è che ci avevo preso gusto Mi dica un difetto Che sono per Malosa impulsiva tante volte Lei di se stessa ha detto Sono stata trattata come una divinità quando era al bagaglino E poi come una reglietta Poi? Come una reglietta Ma diciamo che ultimamente non sono stati molto carini con me A proposito, qua scherziamo eh Sia per Malosa che ha detto che era uno dei suoi difetti Allora... Perché lei con questa faccina sembra buona buona Invece eh? Si chiama Velvet il programma Si chiama Velvet Se no si chiamava Gattemorte Senta, beh, lei è bellissima Che rapporto ha con il suo corpo? Si piace? Ho un rapporto che mi piace quello che vedo Grazie 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 Grazie